La Repubblica delle Biciclette sul traguardo di Osimo ormai in via di smantellamento deve anche affrontare un argomento che a Osimo c'entra come l'olio sul pane o la nutella sul pane. Il problema del territorio, oggi siamo partiti da Assisi e abbiamo attraversato delle terre che ahimè hanno subito degli scossoni drammatici e vorrei capire da Somaro quale sono, qualcosa di più da un luminare. Il luminare lo presenti tu Francesca? Ma con grande piacere perché il luminare è quasi mio gemello, ci passiamo poche ore anche se lui si riporta molto meglio di me ma come sarà? Qual è la tua crema? Forse è l'aria buona che c'è e il cibo buono che c'è in questi posti. È il professor Piero Farabollini dell'università di Camerino, università che è stata purtroppo colpita molto violentamente dal terremoto ma che è anche il simbolo della rinascita culturale di queste terre marchigiane ma è anche presidente dell'ordine dei geologi delle Marche e questo non è poco. È vero, ti ringrazio Francesca. È vero, io ho questa doppia veste che è anche abbastanza importante anche molto impegnativa perché ovviamente devo correlare gli aspetti prettamente scientifici con quelli più professionali forse da questo punto di vista potrebbe essere anche un vantaggio perché ovviamente c'è una trasposizione molto importante di quello che si fa nelle università per riportarlo poi sul territorio e applicarlo in maniera tale che sia utile perché altrimenti la ricerca non servirebbe a nulla. Infatti la ricerca deve essere applicata, dobbiamo superare quella che è la tradizionale separazione tra il mondo della geologia applicata, il mondo cosiddetto professionale di chi esercita la libera professione di geologo e il mondo della ricerca perché se la ricerca non è applicata non ha senso, se la professione non ha una base di ricerca seria non ha senso neanche quella. E' vero, questo vale per tutte le discipline delle scienze della terra senza nessuna esclusione perché anche diciamo discipline che sono più di tipo naturalistico però hanno comunque un'utilità in senso applicativo, in senso proprio professionale. basti pensare al fatto della correlazione tra i territori, il paesaggio e il vino, la pedologia per cui c'è una forte correlazione che deve essere sfruttata e deve essere oltretutto evidenziata. Su questo abbiamo avuto campo libero grazie alla Repubblica delle Biciclette con la nostra rubrica quando ce l'ho, quando ce l'ho, ma io vorrei sapere ma la tecnologia per esempio è un elemento che può fare un salto di qualità alla prevenzione oppure qual è la direzione di ricerca per migliorare e capire meglio quando sta per succedere un macello? Allora, sicuramente la tecnologia è fondamentale però non dobbiamo neanche perdere quella che è la tradizione delle scienze della terra cioè lo studio di campagna, lo studio che si fa sul territorio per conoscere la realtà, le situazioni, gli aspetti geologici, gli aspetti geomorfologici e quello che magari avviene con la trasformazione del paesaggio a seguito di eventi naturali. E' ovvio che poi questa raccolta di dati deve essere trasferita in maniera adeguata e la tecnologia è molto importante perché permette di raggiungere degli obiettivi molto più facilmente rispetto a quello che è. Questo vale anche per tutti gli aspetti legati al monitoraggio, per cui gli eventi sismici visto che siamo in un territorio che è stato colpito particolarmente è ovvio che avere un'adeguata rete di strumentazione, atti a raccogliere informazioni e poi a trasferirli, elaborarli, ragionare questo facilita molto il compito poi di chi va a progettare il futuro. Posso sintetizzare? Gli smanettoni da soli non salveranno il pianeta ma se un osservatore non ha le tacche, non ha internet, è un po' nei guai. Esattamente, è vero, è proprio vero perché purtroppo rimanere dedicati alle tradizioni non è sufficiente essere troppo esposti al futuro perdendo quello che poi concretamente si andava a raccogliere altrettanto inutile e la giusta correlazione, il giusto equilibrio porta a uno sviluppo che sicuramente migliorerà il nostro tenore di vita. La prima miglioria che avete chiesto dopo l'ultimo disastro del terremoto cos'è che quando vi hanno detto insomma non deve succedere più nello stesso modo che cosa avete chiesto a chi di dovere? Cosa vi serve di più? Qui nelle Marche naturalmente. Qui possiamo parlare per tantissimo tempo è ovvio che da un punto di vista della ricerca adeguate strumentazioni, adeguati finanziamenti che servono proprio per raccogliere informazioni su quello che è successo per poter ragionare in chiave futura e prevenire. Da un punto di vista professionale è ovvio che questo permette di capire che fare solo emergenza non è più sufficiente. Noi dobbiamo convivere con i rischi naturali di qualsiasi tipo terremoto in particolare perché purtroppo sappiamo che di terremoti avverranno e ancora non siamo riusciti a prevedere quando arriverà un prossimo terremoto ma sicuramente siamo in grado di dire dove avverrà e qual è la magnitudo e dobbiamo essere pronti a far sì che le nostre abitazioni non subiscano danni perché il terremoto non fa morti ma sono le abitazioni che crollando sulle persone purtroppo creano danni e distruzioni e morti. Il Giro d'Italia in tutto questo cosa c'entra? Il Giro d'Italia è un veicolo molto importante per far capire come l'Italia sia un paese uno geologicamente molto recente e i terremoti lo dimostrano due perché ha una varietà di paesaggi che è spettacolare e tutti legati appunto a questioni connesse con l'evoluzione geologica del territorio passeggiare, passare, attraversare questi territori con la bicicletta è ovvio che chi corre e fa il Giro d'Italia apprezza un po' meno ma attraversato con calma e vedendo tutte le varietà di forme, di colori, di paesaggi eccetera, è una cosa stupefacente per cui fatelo il Giro d'Italia un pochetto più piano e godetevi i paesaggi e ogni tanto magari qualche sosta dove poter mangiare e bere perché l'Italia permette tutto questo. E allora qua la palla torna a te, maestra. È comunicazione, condivisione della conoscenza quello che noi dobbiamo fare è imparare a conoscere imparare a trasmettere questa conoscenza a condividerla insieme per vivere tutti meglio. Esatto, dobbiamo proprio raggiungere questo traguardo vivere tutti meglio. E a chi non capisce che il Giro d'Italia può essere uno strumento per portare avanti proprio questo discorso di conoscenza di comunicazione e di condivisione chi non lo capisce peggio per lui ma prima o poi lo capirà perché noi miriamo proprio a questa fascia di persone spesso nostri colleghi e giornalisti che ancora sono molto resistenti a questo tipo di messaggi integrati. Io lascerei la conclusione anche perché stanno smantellando il buffet al nostro illustre ospite. Saluti gli amici della Repubblica Biciclette. Saluti a tutti e un consiglio che posso dare è seguite Repubblica delle Biciclette perché c'è tanto da imparare. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.